Tutto è gratuito, è un percorso gratuito che può avere una durata minima di due giorni perché l'intera iniziativa è proprio una settimana a partire da oggi. Siamo scesi sempre in campo per affiancare le iniziative anche dei professionisti privati. Oggi il tema principale è l'ascolto per risaltare la figura dello psicologo di fondamentale importanza. Dobbiamo sfatare il mito che si va dallo psicologo solo ed esclusivamente quando si ha un disturbo mentale. Assolutamente questo non è vero. La figura del psicologo, e lo dico anche da medico, soprattutto è di fondamentale importanza. Per cui invito la cittadinanza, invito i nuclei familiari a recarsi presso gli studi di due professioniste che io stimo tantissimo, che sono la dottoressa Chetti De Gregorio e la dottoressa Stefania Rossetti che lavora insieme a un'altra professionista che è la dottoressa Isabella Ripepi che metteranno a disposizione della cittadinanza i propri studi proprio per dare ascolto a chi ha necessità di essere ascoltato.